1, 2, 9, 129, è la signora, finalmente una donna, Omiccioli Rossella. Veramente non me l'aspettavo ma sono contentissima, perché sono anni che vado al carnevale, ormai saranno 40 penso, e il sogno di salire sul carro ce l'ho da parecchio, quindi è un sogno che si realizza. Quindi si inverte la prospettiva, l'ottica da sotto a sopra. Tutto a sopra, sì, quindi chiamate Rossella a squarciagola e io vi riempirò di dolciumi. Però non è la prima volta in assoluto che mette piede su un carro, soprattutto in una posizione sopraelevata, diciamola tutta. No, ci sono delle talpe, la vostra redazione sì, perché quando ero giovane ero salita sul carro, ero tra l'altro con parecchie altre ragazze vestite da sposa, con gli abiti da sposa dell'ex Simone Bice, e c'eravamo divertite ragazzi, eravamo ragazzi tutti vestiti, ballavamo, le coreografie, è stato bello. Però il lancio, il getto è un'altra cosa. Il lancio è un'altra cosa, penso che sia adrenalina pura, vedere tutta la gente, ovviamente chi ti chiama, bello, bello, spero poi di poterla condividere anche con mio figlio, adesso sentirò Luciano Cecchini cosa mi dirà.